Piano Roll Covers è un metodo veloce e molto semplice per imparare a suonare il piano con le canzoni che ti piacciono, quindi non hai suonato un tasto o letto spartiti. È un'ottima idea, focalizzata sull'aiutarti così imparare tutte quelle canzoni che tu ami. Dimentica di ritardare e andare avanti. Piano Roll Covers ti insegna a suonare il piano per livelli, principiante, intermedio e avanzato. Puoi suonare il piano a velocità super lenta, lenta, media e normale, senza distorsione di audio. Puoi scegliere tra Piano Roll orizzontale e spartito. Puoi anche iniziare la canzone da qualsiasi punto, segnare l'intervallo per fare loop e quindi esercitarti in parti ancora e ancora. Puoi vedere il testo della canzone per localizzarti sia il Piano Roll che la partitura. Vedi dita, numerate, accordi o spartiti. Salva lo stato della sessione in modo che quando entri di nuovo puoi riprendere nello stesso punto in cui hai lasciato. Puoi filtrare per genere in base alle tue preferenze e troverai i classici e ultimi successi musicali. Poiché il nostro apprendimento si basa sulla ripetizione, non scivola sulla musica che ci distrae. È spettacolare e semplice. Entra ora a pianorollcovers.com. Ti porto un nuovo livello!